E continuiamo a parlarvi del caso Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser. Sapete benissimo che vi stiamo parlando del caso che sta sconvolgendo l'Italia. Onestamente non credo che la famiglia Moser sia al settimo cielo per la notorietà del figlio? Non ci sono dichiarazioni ufficiali del padre e nemmeno della madre di Ignazio ma a quanto pare dagli spifferi che si leggono nel web non sarebbero esattamente al settimo cielo? E anche in una recente intervista del format Pomeriggio 5 dove è nato i suoi compaesani lo descrivono come un gran furbone. Ma forse quello che bonariamente ha espresso il giudizio più severo è stato proprio Diego Moser fratello del campione Francesco. Secondo l'uomo infatti il nipote non avrebbe un reale interesse per Cecilia Rodríguez, ma il suo vero obiettivo sarebbe addirittura la sorella Belen Rodríguez. Sempre lo zio ha dichiarato poi che Ignazio non ha mai dimostrato di avere grandi capacità come ciclista dove è solo diventato un ciclista ordinario. Tutto il contrario ovviamente di quello dimostrato con le donne. Grazie per la visione.